Nella terza edizione del Biocontrol Conference, Serbios ha deciso di promuovere quello che è una novità assoluta all'interno del mondo del biocontrollo, che è un'introduzione di un fungicida a base di streptomyces, l'Haltstop K61, una novità che porterà agli agricoltori la possibilità di gestire tutte quelle che sono le malattie fungine radicali all'interno di serra e pieno campo su tutte le colture orticole. Questo prodotto è una novità per il mercato italiano, è soprattutto un'innovazione che permetterà una gestione altamente raffinata delle strategie di biocontrollo per malattie come fusarium, rizoctonia e altre malattie radicali che sono presenti all'interno di serra e pieno campo.